Se hai comprato questo, sicuramente ti interessa comprare anche questo. Se hai comprato questo, sicuramente ti interessa comprare anche questo. Guarda anche questo. Guarda anche questo. Compra anche questo. Compra anche questo. Ci capita continuamente di vedere su siti e applicazioni i famosi suggerimenti o raccomandazioni. A partire da quello che si è comprato o visto in passato, il sito ci propone nuovi contenuti o articoli da comprare. Dei vari tipi di motori di raccomandazione che esistono vediamo quello più semplice, che si chiama filtro collaborativo. Il filtro collaborativo ha dei grossi vantaggi. È semplice e permette di fare raccomandazioni su oggetti senza sapere nulla degli oggetti stessi. Per cui possiamo usarlo sia per raccomandare i libri che per raccomandare video, vestiti, qualsiasi prodotto d'acquisto, qualsiasi contenuto. Immaginiamo di essere una TV on demand come Netflix, quindi abbiamo un sacco di video, di contenuti da proporre ai nostri utenti e vogliamo fare delle raccomandazioni per invogliarli in base a quello che hanno già guardato o in base a quello che altre persone hanno guardato a guardare di più, a comprare di più. Il punto di partenza è costruire un database, immaginiamo una tabella, in cui sulle righe abbiamo i vari utenti, in questo caso Tizio, Caio e Sempronio, e sulle colonne abbiamo i vari oggetti che vogliamo raccomandare. Guerre Stellari, Alien, Forrest Gump e il Miglio Verde. Chi non ha visto il Miglio Verde, andatelo a vedere immediatamente. Questa tabella serve ad ottenere un profilo di preferenza per ogni utente, che sarebbero le righe. Sappiamo ad esempio che Tizio ha guardato sia Guerre Stellari che Alien, Caio invece ha guardato Forrest Gump e il Miglio Verde. Sempronio è un nuovo utente, è appena entrato nel nostro sistema e ha guardato Alien. Questo esempio è su pochi film e pochi utenti, però immaginate questa tabella molto molto grande con un sacco di righe e un sacco di colonne. Che raccomandazione possiamo offrire a Sempronio? Il filtro collaborativo ci impone di andare a guardare nel nostro database che abbiamo qui quali sono gli utenti che hanno un profilo di preferenza simile a Sempronio? In questo caso Tizio, perché hanno guardato in comune Alien. Come raccomandazione andiamo a proporre a Sempronio i film che Tizio ha guardato, ma che Sempronio non ha guardato. Il meccanismo è semplice. Nel nostro database abbiamo tanti profili di preferenza e andiamo a vedere in questi profili di preferenza più simili a quelli dell'utente a cui vogliamo offrire la raccomandazione, vediamo quali sono i film, gli oggetti che non ha ancora guardato e gli andiamo a raccomandare esattamente quelli. Questo ci dà due certezze. La prima certezza è che stiamo offrendo raccomandazioni provenienti da utenti che hanno gusti simili a Sempronio. L'altra certezza che ci dà è che Sempronio non ha ancora guardato, perlomeno all'interno del nostro sistema, questi film. Il principio è questo. Semplicissimo e può essere complicato veramente all'infinito perché si può prendere in considerazione il tempo con cui sono guardati questi oggetti, quindi quale prima e quale dopo. Si può prendere in considerazione quanto tempo è stato guardato il video, se ci sono dei like, delle stelline, delle recensioni, se il contenuto è stato condiviso, se è stato commentato. Si possono aggiungere un sacco di informazioni per fare questi calcoli di similarità, di distanza tra profili di preferenza nel modo più ricco possibile. Questo per quanto riguarda il filtro collaborativo. Nei motori di raccomandazioni un po' più avanzati si va anche a guardare gli oggetti stessi che vengono raccomandati. Si possono fare collegamenti tra film di fantascienza che appartengono ad una stessa categoria, dell'orrore, drammatico, comico. Si può andare a vedere quanto il film rientra nei famosi blockbuster, oppure se sono film di autore. In questo caso il motori di raccomandazione viene arricchito dalla semantica degli oggetti che vengono raccomandati. Nel filtro collaborativo guardiamo soltanto i profili di preferenza senza sapere nulla degli oggetti che stiamo raccomandando. Si può guardare a questo discorso di similarità tra profili di preferenza in termini geometrici. Immaginate uno spazio a tante dimensioni. Le dimensioni rappresentano i film, gli oggetti che vogliamo raccomandare. Questo spazio contiene tutta una serie di puntini. Ogni puntino corrisponde ai gusti di un utente. Quando vogliamo fare la raccomandazione è come se andassimo a prendere i puntini che sono vicino al puntino a cui vogliamo fare la raccomandazione. Questo qui è un profilo, questo qui è un altro. Ogni numero all'interno di questi vettori rappresenta se l'utente ha guardato o meno quel determinato film. Vogliamo misurare quanto sono vicini, quanto sono simili tra di loro. Esempio facendo il prodotto scalare di questi vettori, dividiamo per quanti sono i film anche. Abbiamo un numero che varia tra 0 e 1 che ci dice quanto sono vicini appunto. Oppure possiamo utilizzare Tanimoto, possiamo utilizzare la correlazione di Person, possiamo utilizzare la similarità a Coseno. Anche col teorema di Pitagora. Poi una volta stabiliti quali sono i più simili tra di loro andiamo a estrarre le raccomandazioni come detto prima. Un altro modo di pensare a questo meccanismo più che in termini di geometri, in termini di teoria dei grafi è immaginare una rete in cui ogni nodo è un utente. Questo è Tizio, questo è Caio, questo è Sempronio. Quando misuriamo la similarità tra i loro profili di preferenza andiamo a creare delle connessioni tra questi nodi che sono tanto più forti, tanto più i profili sono simili. Quando dobbiamo fare una raccomandazione, esempio Sempronio, andiamo a cercare all'interno delle connessioni di Sempronio quali sono quelle più forti. In questo caso era Tizio. E da Tizio prendiamo i film che Sempronio non ho ancora visto. Si può guardare a questo quindi sia in termini intuitivi, sia in termini di teoria dei grafi, che in termini geometrici, che in termini di tabella non database. Il bello del machine learning, della data science e tutto questo trend che è in corso al momento è proprio questo. Stiamo fondendo cose molto astratte con cose molto pratiche. Cioè usiamo la geometria per vendere film. E questo qui secondo me è estremamente affascinante. Come abbiamo visto nei video precedenti sulle basi del machine learning, anche in questo caso abbiamo utilizzato i dati per creare un modello. E a partire da questo modello abbiamo generato delle raccomandazioni, delle predizioni per offrire ai nostri utenti dei contenuti da guardare. Un aspetto concreto, pratico da sottolineare è che questo tipo di sistema si può mettere in piedi anche con risorse limitate. Non serve di tirare in ballo i big data, i cluster per avere un buon motore di raccomandazione. In realtà anche su un e-commerce, v-commerce, magento, quello che sia, si può facilmente mettere in piedi un motore di raccomandazione. Basta un server, basta il database SQL così come sta. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno agli altri uomini. Spero di aver dato uno spunto stimolante per i curiosi e un qualche indizio per iniziare per gli sviluppatori o i piccoli imprenditori che vogliono lanciarsi nel motore di raccomandazione. Se vi serve aiuto contattatemi, sono qui, sottoscrivetevi al canale, mettete il subscribe e ci vediamo nei prossimi video.